Il medico della Polizia di Stato, il dottore Salvatore Di Benedetto, dirigente dell'Ufficio Sanitario della Questura e il suo staff, hanno iniziato il corso di istruttore di primo soccorso tenuto da un istruttore del SEUS, Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118. Una volta formati gli istruttori della Polizia di Stato, procederanno con la formazione interna del personale della Questura, dei commissariati e delle specialità in servizio nella nostra provincia. Il corso di primo soccorso ha lo scopo di fornire al lavoratore designato le conoscenze necessarie per la gestione di un'emergenza. Tale corso permette di acquisire le adeguate capacità al fine di avvisare correttamente e tempestivamente i soccorsi ed assistere la persona che è incappata in un incidente fino all'arrivo dei soccorsi. Oltre al dottor Di Benedetto abbiamo ascoltato il poliziotto Salvatore Amico, che alcuni mesi addietro si è trovata a soccorrere per strada una cittadina. La Polizia di Stato, come tutte le forze dell'ordine, ha tra le sue missioni principali il soccorso pubblico. Le città più grandi in Italia, quindi sede di Questura o di commissariato, hanno al proprio interno addirittura un ufficio che porta nel nome il soccorso pubblico. È l'UPGSP, l'Ufficio di Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico, che è tra l'altro l'ufficio più noto alla popolazione, che vede intervenire H24, automezzi e personale per il soccorso alla popolazione e le diverse esigenze. Spesso capita che queste esigenze di soccorso siano miste, cioè abbiano implicazioni di polizia, implicazioni tecniche e implicazioni di soccorso alla persona. È quindi importante che il personale di polizia, soprattutto dopo l'epoca Covid, che ci ha visto orientare le energie verso tutt'altra direzione, venga nuovamente e aggiornatamente qualificato verso questa attività di soccorso alla persona per quanto laico. Abbiamo fatto la scelta di rifare la formazione intanto dei formatori, cioè di noi stessi, medici, infermieri e personale che opera negli uffici sanitari, nell'ufficio sanitario di Caltanissetta meglio, per poter riavviare nuovamente la formazione e la standardizzazione del personale. Durante l'espritamento del servizio di controllo del territorio in questa città mi trovavo di volante e notavo una donna a casciarsi per terra. Nell'immediatezza la raggiungevo, notavo che il battito alla carotide e al polso era assente, era pure assente il respiro, quindi immediatamente mi sono prodigato ad effettuare il massaggio cardiaco e contestualmente ho chiamato personale del 118 che giungeva sul posto e ha preso in carico la signora. Fortunatamente, agendo con demestività, la signora comunque si è ripresa. Questi corsi sono molto importanti, la nostra amministrazione di appartenenza ci dà la possibilità di effettuare questi corsi in modo da avere una linea madre così da lavorare comunque con le massime capacità operative e ottenere il massimo risultato sembra tutela e protezione del cittadino.